Sul turismo in Abruzzo si può e si deve fare di più. È quanto emerge dall'indagine che la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha commissionato all'ISNART, l'Istituto Nazionale di Ricerche sul Turismo. Rispetto ad altre regioni italiane, l'Abruzzo ha subito meno di altre l'impatto della crisi pandemica, con i piccoli borghi divenuti protagonisti di quel turismo lento ed esperenziale al centro di una rinnovata attenzione turistica. La frammentazione dei territori però diventa ora un problema da superare con un lavoro di squadra che punti al legame identitario dei territori per attrarre nuovi flussi turistici, come spiega Roberto Di Vincenzo, presidente dell'ISNART, l'Istituto Nazionale di Ricerche sul Turismo. C'è un fenomeno in atto che era presente già prima del Covid, che il Covid era rafforzato, che è quello di un interesse verso i territori montani, quelli che a me piace chiamare i territori del buon vivere e non più aree interne, perché è meglio rappresentare con un nuovo nome anche per appetibilità turistica. Si sta sviluppando ulteriormente questa tendenza che però incontra una disorganizzazione territoriale. Una destinazione turistica necessita principalmente di una unione dei territori su una linea strategica, così come la Camera di Commercio di Chieti sta facendo sul costo dei Trabucchi, dove ha messo attorno a un tavolo tutto il territorio, dagli operatori alla politica, per dialogare assieme e costruire un progetto. Poi certamente c'è la complessità di territori scarsamente popolati, che quindi hanno una difficoltà anche ad avere servizi al cittadino e oggi i servizi al cittadino sono gli stessi servizi che il turista vuole. Certamente c'è la fase fondamentale del PNRR, del fondo complementare, che su questi territori sta investendo tantissimo. C'è in atto un fenomeno che però deve andare di pari passo appunto con la non frammentazione. Quali sono allora i suggerimenti che vi sentite di dare come ISNART a questi territori del buon vivere? Individuare una strategia di progetto. Per fare un esempio non a caso, l'Abruzzo è la terra dei pastori, una terra sulla quale peraltro il Consiglio regionale sta puntando. Se si prende questo come asse di riferimento, visto che tutto il paesaggio, tutta l'economia storica abruzzese ruota attorno al tema della pastorizia, può essere un asse attorno al quale tutti insieme poi si muovono. Almeno avere una direzione che li rappresenti significa ridurre la frammentazione. A commentare la fotografia scattata dall'ISNART è stato anche Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Dobbiamo fare ancora molto, sia nella comunicazione che nella qualità degli alberghi, nella diffusione degli alberghi. Se non riusciamo a fare numeri importanti, probabilmente non avremo mai una massa di turismo straniero. Il straniero che arriva rimane innamorato. Il problema è portarcelo e fargli trovare strutture adeguate. Quindi cosa si può fare concretamente? Noi come ente camerale aumentare la comunicazione e la promozione in modo particolare all'estero. Però bisogna che gli imprenditori del settore ci diano veramente una mano a fare squadra, a creare grandi numeri di recittività.